Nel periodo del Potecanico, intorno al II secolo a.C., raffigurano due notabili del tempo, del luogo. E dove sono stati ritrovati? Non si sa. Non è una connotazione per dire se era... Prima di essere collocati nel comune si trovavano nel cimitero, nel cimitero di Roccani. E' perfetto. Quando... ...e' fatto una serie di... Che cosa c'è? ...l'arco, l'arco, l'arco, l'arco. ...l'arco, l'arco, l'arco...